... Appassionati d'opera, in visione e in ascolto, come ormai è diventato il tormentone questo, ben ritrovati con Giorgio Gaglione, che ritroviamo anche lui volentieri, ormai sei di casa praticamente... Sì, sì, torno sul luogo del delitto. Sul luogo del delitto, a distanza di poco più di un mesetto diciamo. Eh sì, sì, sì. Perché per la serie che passa il tempo poi magari era di più, ma... Il 21 marzo... Ah giusto, perché era la Rondine, la famosa primavera che chiama le Rondine. Eh, cosa è oggi? Il 20 di aprile, quindi è poco meno di un mesetto, se consideriamo le prime. Beh, la Rondine c'era molto da parlare dell'oggetto stesso, perché non è un titolo che viene fatto di frequente. Traviata invece, credo che insieme a Carmen sia uno dei titoli più rappresentati al mondo, universalmente. Cioè, pare che non passi giorno che ci sia almeno una produzione in un teatro... Ci sia una... Pensa se Verdi avesse la CIA e ancora cosa sarebbe. La traviata che il pubblico genovese, almeno chi l'ha vista l'anno scorso, in parte già conosce, perché l'allestimento scenico è esattamente quello dell'anno scorso. Sì. Cambiano però, perché è bello che l'opera è come in cucina, no? Si ricomincia sempre da capo tutte le mattine. Cambiano gli interpreti, cambia la direzione d'orchestra. Per Giorgio Gallione cosa cambia? Ma non tantissimo, nel senso che ovviamente ci si, come dire, relaziona con gli artisti che di volta in volta interpretano questo oggetto. Però la traviata l'abbiamo fatta poco tempo fa, un anno e mezzo fa, per cui è molto vicina anche nel mio ricordo e perciò anche nel mio atteggiamento nei confronti di questa operazione. Forse ve l'avevo raccontato, io avevo fatto rondine 25 anni fa, l'ho rifatta l'anno scorso... E nemmeno proprio la stessa, neanche la stessa, quando l'ho incominciata a studiare l'anno scorso il mio atteggiamento era completamente diverso nei confronti dell'opera, eravamo tutti cresciuti anche anagraficamente. Eri anche tu diverso. Esattamente, esattamente. Mentre invece questa traviata è esattamente quella dello scorso anno, c'è sempre la logica che l'impianto scenico è in comune perché era stata concepita così, per cui io la sto ricostruendo... Come fa ho visto c'è stata anche adesso, ecco ci viene riproposto, il piatto scenico effettivamente è questo, questo albero. Rimane lo stesso palcoscenico e lo stesso fondale di rondine e per il resto la vestiamo. Come si possono chiamare? Melomani puristi, ammesso che si possa agire per categorie poi, però le semplificazioni sono sempre sbagliate, però diciamo che c'è un gruppo di melomani l'anno scorso, non tanto contestò, quanto però diceva, beh però io la traviata voglio il salotto, qui non c'è il salotto, non c'è la casa di campagna, qui siamo in quel famoso non luogo dove era ambientata l'anno scorso e ambientata pure quest'anno. Cosa rispondiamo a questi signori che vogliono il salotto? Di andare da Iazzone? Sì, beh questa potrebbe essere quella più giocosa, no? No, no, è che di fronte così a un totem come traviata credo che sia interessante non tramandare, oppure non solo tramandare ma anche interpretare, no? Perché se no potremmo prendere produzioni... Stabiliamo che ne esiste una e quella la traviata si fa, quella di sempre. Mentre invece cambiano le sensibilità, cambiano i tempi, cambiano gli sguardi rispetto a traviata. Lo sguardo che lo scorso anno ho cercato di imprimere su traviata è uno sguardo, chiamiamolo simbolista, chiamiamolo incubotico, chiamiamolo angosciante, chiamiamolo surreale, però la logica è di tentare di guardare lo spettacolo con gli occhi di Violetta come se tutto fosse un'allucinazione o un incubo ai confini tra la vita e la morte. Cosa che di fatto Verdi già stabilisce di per sé nella partitura, perché se vai a vedere c'è... è una opera che probabilmente si usa dire messa in flashback, no? Perché la musica iniziale, che è tutto meno che giocosa, diventa giocosa nel momento in cui parte il ricordo, il dramma è già avvenuto, infatti la risentiamo subito prima del terzo atto, quando ritorna quasi in tempo reale. Infatti credo di aver fatto banalmente una cosa che... Abbastanza psicologica come dicono quelli che parlano. Sì, sì, ma poi anche nel romanzo di Dumas la vicenda inizia con Violetta morta e credo che questo lo si percepisce, io non lo dico da musicologo, ma da narratore, da regista, nel preludio. E nel nostro caso... Una delle rarissime opere col preludio di Verdi, che di solito preferisce l'overture, no? Invece questo è un Verdi che sembra Mahler, non so come dire, veramente una delle musiche più belle e più tristi che abbiamo iscritto. Infatti, e questo però, come dire, è una meravigliosa provocazione dal punto di vista scenico che io ho accettato mettendo in scena o l'incubo, o la morte, o il sogno, o l'allucinazione di Violetta che sostanzialmente muore alla fine del preludio. E quindi tutto il resto. E tutto il resto è una visione. Ed essendo una visione, viene anche ambientata in un luogo che è il luogo dell'incubo, che non è realistico. Le danze, i personaggi, i doppi di Violetta, io spero di averli fatti con rispetto e attenzione, però sono figli di questa lettura. Il fatto di, lo diciamo sempre, lo dicevamo anche per Roni, di avere comunque trascorsi operistici, ma forse più frequentazioni invece di prosa, se vogliamo, influisce nel raccontare anche una storia così famosa come quella di Violetta, nel senso che chi approccia l'opera da musicista tende a farsi prevaricare, tant'è, dalla musica. Cioè, secondo me è naturale, è una cosa. Chi ci arriva invece col gusto della regia teatrale, probabilmente c'ha più stimoli, effettivamente è forse portato a vedere qualcosa dove gli altri invece si siedono. Cioè, non avere una... Ma credo che sia anche doveroso per un regista tentare di non riprodurre pedissequamente ciò che è stato fatto, in tanti modi diversi. Certo. L'anno scorso, su questa messa in scena, ho letto tante cose, alcuni che la consideravano troppo innovativa e altri che dicevano, ma tutte le provocazioni o tutte le letture diagonali sono già state viste. Ormai è tradizione. No, sono già state viste. È tutto rispettabile. Nella mia logica, ad esempio, la presenza, la figura del dottore, che è una sorta di, come dire, compagno che da un... È come nella nostra vita, no? Se vediamo troppo spesso il dottore... Da una parte ci tranquillizza molto, è una figura che ci tranquillizza molto, dall'altra parte è il segno che qualcosa non sta funzionando. Per cui, per me, è messa in scena come una sorta di tragedia moderna. Io penso molto a Euripide, quando racconto, perché è fatta di iperboli, è fatta... E soprattutto, non a caso, Verdi la voleva intitolare Amore e Morte, c'è... L'Eros è molto, molto presente. E così come molto il Thanatos anche, nel senso che... Esattamente, esattamente. Per cui, se Thanatos è il dottore che continuamente è presente, continuamente aleggia, come se fosse un ricordo impellente di Violetta che continua a segnalare che la sua vita è ai confini, no? Dall'altra parte, alcune scene, ad esempio quella delle Zingarelle, è una scena fortemente contrassegnata dall'Eros. Certo. E fra l'altro, poi, è il preludio del drammone, quando viene pagata nell'accezione normale. Senti, è cambiato anche il direttore d'orchestra. Adesso ti vai a confrontare... Ricordiamo che l'opera è sempre che sta a nave con due comandanti, no? C'è il regista e il direttore d'orchestra. Con Daniel Smith, che è giovane e australiano. Come ti sei trovato con... Ma molto bene, molto bene. Lo dico al di là dei minuetti. Mi sembra che la sua interpretazione sia una interpretazione molto, molto dinamica dell'opera. È come se fosse una grande cavalcata, di grande temperamento. È una vertigine, no? Perché poi questo succede, no? In qualche modo si va vertiginosamente verso la morte, già dall'inizio. Mi sembra che lui lega l'opera con questa logica. C'è anche da dire una cosa molto banale. In questo caso l'opera era appena nata e aveva già un imprinting molto forte, no? Dal punto di vista visivo. Per cui Daniel molto intelligentemente ha visto quello che c'era. È arrivato integrandosi in un progetto che era già partito. Esatto, per cui in questo senso gli sono grato perché è stato molto collaborativo ma devo dire che tutte le volte gli siano scambiati opinioni o pareri ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d'onda. Sì, sì. E in questo caso forse chissà che non collabora anche il fatto, al di là di quanto è famosa Traviata, che qualcuno che comunque viene dall'Australia ha meno paraocchi per certi approcci comunque il tema e l'argomento non con meno timore reverenziale ma comunque con delle idee più libere. Ma sì, il fatto al pubblico io chiedo di non essere né prevenuto né, lo dico giocosamente, pigro. Perché molto spesso, tanto pubblico, ma io stesso quando faccio lo spettatore voglio che lo spettacolo confermi ciò che già io so o ciò che già io penso. In questo caso non avviene così però io credo di aver tenuto una logica ferrea dal punto di vista del... Sei disposto a qualsiasi dibattito? Sono disposto a qualsiasi dibattito perché credo di non aver fatto niente di casuale. No, 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 ma è vero perché bisogna, insomma, quando si è in platea giustamente anche un minimo di sforzo nel venire incontro a che cosa sto vedendo. Se non capisco poniamoci il problema di che cosa non sto capendo. Certo, un minimo di collaborazione nel... No, poi mi sembra che i simboli non siano... Poi sto parlando a me stesso, no? Davanti allo specchio dovrebbero esserci degli interlocutori che mi lavorano contro. Però quel tipo di simbolismo mi pare abbastanza leggibile. Tenuto conto che comunque un simbolo per caratteristica... Certo, sennò è uguale. Esattamente. È un significante significato. Ha molteplici significati, no? L'albero, ad esempio, tante domande mi sono state fatte sull'albero, ma l'albero è... Che vediamo in comune... È una vita che cerca di... È un albero sterile, no? È un albero sterile che all'inizio è un lampadario stilizzato ma è un oggetto che cerca di vivere ancora ma non sta più vivendo perché ormai non genera più frutta, non genera più vita. Nel secondo atto nella campagna è già successo, diciamo, le mele sono già cadute, no? Per cui quell'albero lì è destinato a morire. E nell'ultimo quadro l'albero è spezzato per cui anche quella simbologia mi pare di grande leggibilità, diciamo così. E d'altra parte ricordiamoci che nel terzo atto c'è l'addio del passato che è una delle cose più belle che abbia mai scritto. che poi è il vero finale perché poi la morte arriva, mi dico sempre che rispetto a Puccini sembra veramente una nave che affonda, di più si sente questi colpi di tipo, mentre invece l'addio del passato è veramente un addio alla vita. quello è la parte, il sottofinale più drammatica addirittura del finale. Soddisfatto? Sì, sì. Così è una domanda classica. Io sono molto contento anche di rifarla in tempi brevi per cui di riconfrontarmi con quelle che un anno fa erano intuizioni che nascevano naturalmente che dovevano essere di volta in volta messe alla prova dal palcoscenico. Forse mi è ancora più chiaro oggi ciò che ho fatto, mentre spesso l'anno scorso lo facevo intuitivamente, per cui sì, molto soddisfatto di rifarla. A questo punto dunque abbiamo sicuramente fatto venire più voglia a chi non l'avesse ancora vista. Traviate un titolo che comunque per gli appassionati d'opera è abbastanza immancabile, no, perché comunque uno potrebbe farne una all'anno tutti gli anni e sono sicuro che infatti è un po' il crucio di quelli che sono un po' più appassionati di musica ma non in generale del melodrama ma è assoluto che forse bisognerebbe anche fare delle cose un po' più ose, per esempio Rondine non veniva fatta dal 17 e è bene. Ma io sono stato un privilegiato perché ho lavorato sui due pedali. Certo, però per poter fare quelli io sarei anche un po' più modernista però poi giustamente arriva il direttore artistico e dice ecco bravo sei modernista ma se me li copri tu le differenze di botteghina allora il modernista dice va bene comunque benvenga Traviata che ricordiamola è un capolavoro assoluto assoluto è meraviglioso sia musicalmente che in questo allestimento che già conosciamo ma chi non avesse ancora invece visto preghiamo e consigliamo caldamente di venire a vedere la prima è il sai che non me lo ricordo il 2 maggio ah 2 maggio non il primo ma il 2 e fino al 6 giustamente quindi sono 5 repliche verosimilmente le contiamo e lo sono va bene confermo confermi va bene queste cose che sappiamo senti grazie mille come al solito di essere stato a trovarci e spero che il pubblico arrivi numeroso e che apprezzi ne sono convinto grazie viva ciao grazie mille ciao Grazie a tutti.